Sono Svaldo Maffei E' stato scelto prima di tutto E' uno degli esempi più belli della cosiddetta economia della città Buona sera Buona sera Lavoro no, veramente bene E' un centro di valore comunale questo E' un giocatore comunale Direi tutti i giorni Chi tutti i giorni Un luogo di abitazione Con la bellissima facciata Procettata Probabilmente anche quella Per la torta Ambrosio Cosmini E con all'era Città A parte i nostri anziani Ed è di un pittore Di sera Dove prima siamo stati Che era L'allievo Di Clementino Vannetti Certamente Intanto la vita era importante Però c'era anche un problema di sopravvivenza Perché c'erano altre Altre culture Come il fagiolo Il grano Il grano saraceno La polella Il gran turco eccetera Poi c'era appunto in quel periodo il bacco da seta Che serviva per nutrire i bruchi Che erano allevati In questa struttura In questa struttura qui Mentre quella che vedete Più in basso Era invece La La finanda La finanda Che appartenevano Entrambe Allo stesso proprietario Grazie 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 Grazie